Ciao Giuseppe, grazie ovviamente come sempre per la disponibilità, io comincerei con il petrolio che ho superato quota 100, poi ovviamente andiamo a parlare di gas perché comunque è forse anche l'aspetto, uno degli aspetti che sentiamo anche più vicino, comunque sia il superamento dei 100 per quanto riguarda il Brent, il WTI 97-35 era sostanzialmente atteso, sembrava che potesse fare quasi da resistenza prolungata e invece è stato rotto il rialzo in maniera forte, in maniera importante, d'altra parte insomma quando il contesto geopolitico e questo sarebbe forse strano che non accada una spinta rialzista di questo tipo. Giuseppe a te la parola. Grazie Giacomo, io soprattutto in queste ore, in queste giornate invito tutti a mantenere alta l'attenzione, è difficile immaginare sin dove arriveranno le quotazioni, mi riferisco al mercato delle materie prime, attenzione magari immaginiamo di utilizzare delle size molto molto basse perché la volatilità è davvero forte, c'è una grande forza e chiaramente le oscillazioni sono decisamente repentine, se oggigiorno fosse in vita invece Oma che fu quel mercante giapponese che si arricchì nella metà del 700 acquistando e vendendo riso al mercato di Dojima, probabilmente inventore delle candele giapponesi, probabilmente oggigiorno in queste ore anche lui avrebbe difficoltà ad entrare sul mercato. Fatta questa parentesi, gran parte delle materie prime si trovano, le forniture e i livelli di offerta di molte materie prime continuano ad essere per certi aspetti limitati a fronte di una domanda che è comunque in continua crescita, al netto di ciò che purtroppo sta accadendo dal punto di vista internazionale e nello specifico il contesto legato alla guerra in Ucraina. La struttura di mercato per molte materie prime, così come per il petrolio, continua ad essere in backwardation, addirittura alcuni livelli non si registravano per quel che riguarda questa particolare struttura di mercato, non si registravano da lontano 2007. Sappiamo bene che per quanto riguarda il mercato delle materie prime, generalmente i future hanno prezzi più elevati man mano che si susseguono le scadenze future, anche perché riflettono sostanzialmente il costo del trasporto, le aspettative della domanda, le scorte, insomma tutta una serie di elementi che abbiamo ben evidenziato nelle passate settimane. Ebbene, oggigiorno, e quindi si parla di condanno, oggigiorno la situazione è completamente all'opposto. Petrolio, avevamo anche sottolineato un aspetto molto importante sul petrolio, ossia la possibilità in relazione a domanda e offerta, in relazione ai livelli di stoccaggio, in relazione a tutta quella serie di fattori che si sono palesati ad esempio negli Stati Uniti, abbiamo spesso parlato dello shale oil, dei livelli di produzione, dei livelli di stoccaggio anche presso il principale sito di stoccaggio ubicato a Caching in Oklahoma, avevamo evidenziato settimana in settimana i numeri relativi pubblicati dall'Energy Information Administration, dall'API per quel che riguarda le scorte e chiaramente come sempre abbiamo sottolineato questo aspetto, focalizziamo sempre l'attenzione sui contesti e sugli scenari internazionali, l'area dei 100 dollari al barile era un'area che stavamo monitorando, visualizzando la parte alta del grafico già da diverso tempo, ma è chiaro, lo avevamo detto e chiaramente era un po' nell'area, un aumento delle tensioni ed un conflitto che purtroppo è in corso, ha calamitato in maniera con maggior forza il greggio verso i livelli che hai ben evidenziato all'inizio del tuo ragionamento. Il petrolio dove andrà? Ci saranno delle oscillazioni importanti, abbiamo un CRB index sulle materie prime che continua a guardare la parte alta del grafico, c'è il problema legato a una serie anche di strutture particolari, per esempio soprattutto in Ucraina, se pensiamo tra Ucraina e Russia, se pensiamo al territorio, pensiamo ad esempio al Mar Nero, al Mar Dazzo dove l'attività navale è, ci sono dei seri rischi chiaramente, dove proprio da quei porti partono non solo quantitativi di petrolio, la Russia da lì fa partire circa 2 milioni di barili al giorno di petrolio, ma allo stesso tempo ci sono da quei porti, da quei punti importanti, da quei territori importanti, quindi mi riferisco a Mar Nero e Mar Dazzo, solo per fare un esempio della situazione incandescente, anche i flussi che riguardano ad esempio il grano. La Russia come ben sappiamo esporta gran parte di petrolio, circa 5 milioni di barili al giorno verso il vecchio continente, ma allo stesso tempo dovrebbe produrre 10,4 milioni di barili giornalieri quest'anno, quindi ha un ruolo forte, è un produttore che è un attore principale anche all'interno dell'OPEC+, insieme all'Arabia Saudita e chiaramente l'OPEC+, attenzione che si riunirà il prossimo 2 marzo e quindi vedremo un po' le decisioni quali saranno, l'OPEC+, che attraverso la sua politica comunque influito in maniera importante per quel che riguarda l'aumento delle quotazioni attraverso la riduzione della produzione, ma questo chiaramente riguarda un po' il passato, anche se oggigiorno proprio l'OPEC+, dovrà magari immaginare di rivedere alcuni dati relativi ai livelli di produzione, i livelli di produzione, Giacomo che non tutti i Paesi membri riescono a garantire, c'è stata anche una sorta di tiratina d'orecchia da parte dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, si stanno producendo sostanzialmente, mettendo sul mercato meno barili rispetto ai livelli preannunciati, ma chiaramente il tema oggi, il focus è tutto decisamente concentrato sulle forti tensioni e la guerra in corso tra Russia e Ucraina. Chiaramente tutto questo ricade in maniera preponderante sulle nostre tasche, sulle nostre economie e soprattutto molti contraccolpi li abbiamo già subiti e li potremmo subire proprio nel nostro Paese. Abbiamo visto non solo i prezzi della benzina, ma anche i prezzi del gas li abbiamo commentati di settimana in settimana, quindi la situazione è molto complessa, quindi io invito tutti a mantenere la calma e magari a utilizzare soprattutto gli stop loss, in questo caso in maniera assolutamente obbligatoria, ridimensionare le size oppure addirittura sarli fermi ed attendere che gli scenari, lo speriamo tutti, si riducano questi forti irrigidimenti e chiaramente si torna un po' alla normalità. Questo è un po' il quadro. Quindi sì, il petrolio c'era da aspettarselo e le tensioni hanno fatto anche, c'è anche una forte preoccupazione già manifestata da diverse settimane, ad esempio da Biden, sull'aumento dei prezzi della benzina negli Stati Uniti d'America, a livelli che non si vedevano dal 2014, ricorre negli Stati Uniti gli Stati Uniti hanno dovuto, lo avevano già preannunciato, le famose riserve strategiche, c'è la questione relativa all'Iran, il mercato del petrolio in questi giorni è decisamente effervescente, come è decisamente effervescente il mercato delle agricole, così come quello dei metalli, senza trascurare quello del gas. Questo è un po' il quadro, quindi molta molta attenzione. Gas e su cui adesso ci si domanderà anche se l'Europa può sanzionare la Russia e vivere senza il gas che arriva appunto dalla Russia. Ricordiamo che poi l'Europa dipende dal gas russo in maniera diversa, insomma i vari 27 paesi, segnalo come Belgio, Slovenia e Spagna che hanno bisogno del 12% dalla Russia, l'Italia e la Germania poco meno della metà del gas prodotto arriva dalla Russia, mentre paesi come Finlandia, Slovacchia e Lettonia dipendono completamente da Mosca. È ovvio che adesso si parlerà soprattutto di GNL, cioè di gas naturale liquefatto, correggimi se sbaglio se è l'espressione ok, che arriva soprattutto dall'America. Già nell'ultimo mese l'Europa ha importato più gas americano rispetto al gas europeo. L'Italia si sta muovendo per ottenere qualcosa di più dal Qatar, con cui già ci sono dei rapporti. La scorsa Draghi ha incontrato il ministro degli esteri, Mohamed Altani. Si parla anche di irrobustire la fornitura dal TAP, dal gasdotto TAP e anche da quelli che arrivano da Israele, quindi Ismed e Poseidon. Gas che oggi registra un aumento di oltre 10 punti percentuali. Mi viene da chiederti, Giuseppe, mi rendo conto che la sfera di cristallo non ce l'hai. Se dobbiamo attenderci anche il prezzo a cui avevamo ossestito nel momento peggiore, quindi fine dicembre, quando avevamo superato i 180 euro per megawattora, anche qui vado a memoria, correggimi se sbaglio. Sì, c'è il rischio. Il mese scorso gli Stati Uniti hanno esportato circa 7,15 milioni di tonnellate di gas liquefatto, naturali liquefatto. Più di 100 metaniere, la metà di queste sono arrivate nel vecchio continente, quindi è chiaro che la partita è anche lì, gli Stati Uniti hanno un forte interesse nell'aumentare i livelli di esportazione verso il vecchio continente. La forte preoccupazione è chiaro, è quella lì, è tutta lì, noi potremmo rivedere come già è cresciuto in maniera forte, netta e decisa, ha superato i 110 euro per megawattora, chiaramente la possibilità di rivedere un prezzo del gas in area 180, furono testati 182 euro per megawattore nel mese di dicembre, Giacomo, dello scorso anno, quando i flussi lo ricordiamo attraverso il gasdotto Yamal Europe, gasdotto molto molto importante, sostanzialmente funzionavano al contrario, il gas ritornava praticamente in Polonia. C'è tutta la questione di Nord Stream 2, l'abbiamo in più occasioni messo in evidenza e c'è tutta la questione relativa alle esportazioni, la riduzione dei flussi da parte di Gasplom e allo stesso tempo la questione dell'Italia, la questione dell'Italia è molto molto particolare, bisognerebbe non solo per quel che riguarda l'Italia, ma anche per quel che riguarda l'Europa effettuare un vero e proprio scatto di reni, immaginare di rivedere le politiche energetiche, pensiamo la mancata certificazione di Nord Stream 2 chiaramente va ad impattare noteramente la possibilità di aumentare i flussi di gas, potrebbero arrivare circa a 55 miliardi di metri cubi in più di gas attraverso questo gasdotto verso il vecchio continente, ma dall'altro lato l'Ucraina attraverso, con la certificazione di Nord Stream 2 perderebbe circa 3 miliardi all'anno in mancati diritti di transito, cioè fare a circa il 7%, quindi le questioni sono molto molto rilevanti. L'Italia dovrebbe aumentare i livelli di estrazione, anche se chiaramente nell'ultimo dato di riferimento sostanzialmente abbiamo prodotto circa 3,5 miliardi di metri cubi con una domanda che è pari a 70-75 miliardi di metri cubi. Importiamo principalmente il gas dalla Russia attraverso il gasdotto che poi arriva a Tarvisio, dall'Algeria attraverso un gasdotto che arriva a Mazzara del Vallo, poi dal nord Europa attraverso il gasdotto che arriva nella zona di Verbania, poi c'è Melendugno, ci sono vari gasdotti, ma tuttavia c'è ancora la necessità, più volte richiesta anche dallo stesso Ministro, ha promesso sostanzialmente la, si prevede, si immagina di aumentare la produzione, ma tuttavia Giacomo questi provvedimenti rischiano a mio avviso di rappresentare una sorta di momentaneo palliativo se non si mette mani in realtà degli interventi strutturali e allo stesso tempo quindi anche lo stanziamento da parte del governo di quasi 8 miliardi di Euro che si aggiungono ai 3,8 miliardi di Euro inseriti nella legge di bilancio a dicembre, certamente a mio avviso sono un momentaneo palliativo, quindi la questione è molto molto rilevante e la necessità di rivedere le politiche energetiche, magari immaginare contratti a lungo termine e quanta tutta quella serie di elementi che abbiamo commentato davvero in tutte le salse di settimana in settimana. I nodi sono arrivati al pettine, noi già da scorsa estate abbiamo lanciato proprio qui alle fonti TV una sorta di campanello d'allarme andando a visualizzare una sorta di ridimensionamento per quel che riguarda i livelli di stoccaggio nei principali hub europei e chiaramente al netto di ciò che purtroppo sta accadendo in Ucraina c'era la possibilità di vedere chiaramente prezzi verso la parte alta del grafico, contesto un po' differente negli Stati Uniti d'America anche se attenzione negli Stati Uniti d'America attualmente siamo in area 4,8 dollari per un milione di 20 termaglioni, anche lì chiaramente i prezzi del natural gas guardano la parte alta del grafico, c'è la possibilità di intercettare anche magari i 5 dollari, però è chiaro qui nessuno ha la sfera di cristallo di fronte, dinanzi a questa importante netta volatilità bisogna stare molto molto caoti, situazione complessa anche per quel che riguarda i metalli, pensiamo al netto di quello che sta accadendo sull'oro Giacomo, era inevitabile l'oro che guarda i 2 mila dollari l'oncia, un livello che può essere assolutamente intercettato, grande fermento per quel che riguarda anche l'argento, al netto di tutto ciò che abbiamo ben evidenziato, narrato sui specifici settori industriali, quindi la potenzialità dell'argento non solo dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista legato alla richiesta, alla domanda industriale, senza dimenticare ha dei record clamorosi di alluminio e nickel, siamo al massimo storico per quel che riguarda l'alluminio, 3.330 dollari per tonnellata. Eccolo qua l'alluminio, ti sto seguendo con i grafici, ovviamente quello che sto mostrando è l'alluminio e Giuseppe non dimentichiamo anche il palladio che tra le materie, tra i metalli preziosi e industriali è il metallo che sta registrando l'aumento maggiore, oltre 4,5 punti percentuali di apprezzamento, siamo quasi a 2.600 dollari l'oncia, abbiamo più volte anche spiegato i motivi, viene estratto soprattutto in Russia e in Sudafrica e inevitabilmente tutto ciò che arriva dalla Russia sta registrando un apprezzamento clamoroso, vedi anche il grano, lo citavi tu stesso per le materie prime agricole, due parole sul palladio ti chiedo Giuseppe? Il palladio, allora siamo, il palladio 2.500 dollari l'oncia era un'area che, attenzione al netto di ciò che sta accadendo, era un'area che stavamo monitorando poiché il superamento di tale livello potrebbe spingere ulteriormente il metallo verso l'alto, lo scorso anno, attenzione la Russia, è chiaro che le tensioni e la guerra in corso ha alimentato anche la spinta al rialzo del palladio, questo senza dubbio, così come per il platino, così come per il michel, lo scorso anno bisogna immaginare che la Russia ha prodotto il 40% di palladio pari a circa 2,6 milioni di once e circa il 10% di platino pari a 64 milioni di once, certamente anche, chiaramente abbiamo parlato della carenza globale dei chip che ha, per i semiconduttori che ha influito chiaramente sul ridimensionamento momentaneo della domanda di questa materia prima, aumento della domanda in corso, c'è grande effervescenza, viene utilizzato anche per le marmitte catalitiche del palladio, a proposito di Russia, proprio in Russia è ubicata una delle principali aziende che, oltre ad essere un luogo di estrazione importante, una delle principali aziende è la Norris Nikkel che è ubicata proprio in Russia e a proposito di scenari internazionali per quanto riguarda un'altra materia prima che ha effettuato un performance incredibile è chiaramente l'alluminio come hai ben evidenziato, abbiamo ben visualizzato graficamente e quindi contesti internazionali assolutamente rappresentano spesso, quando sono molto incandescenti, dei veri e propri contraccolpi per le materie prime. Pensiamo ad esempio a ciò che è accaduto, questo è solo un esempio all'alluminio, quando fu comunicata la notizia del colpo di Stato in Guinea, proprio in quella giornata ci fu un balzo di un poco più del 2% presso la Borsa di Londra e quindi questo fa capire come dobbiamo monitorare, dobbiamo attenzionare non solo numeri, dati, report, banche centrali, domande e offerte, ma anche ciò che accade purtroppo dal punto di vista geopolitico e per quel che riguarda le relazioni internazionali. Anche il grano, Giacomo, se riesce ad inserire un grafico, il grano americano è veramente, ha superato gli 800 dollari l'oncia, siamo a 930, veramente un balzo in avanti incredibile, così come per la soia avevamo immaginato la possibilità di intercettare i 1700 centesimi di dollaro per bashell, un'area che è stata raggiunta anche per problematiche relative al clima, soprattutto in Sud America, che hanno intaccato, hanno influito sui, sull'offerta, ma chiaramente oggigiorno il tema, il focus è tutto concentrato sulla guerra in atto che sta spingendo, spingendo i prezzi delle materie tulle. climatico che, come ci dicevi tu, ha portato a un aumento dei prezzi anche di alcune materie prime, ne abbiamo parlato anche spesso in tua compagnia del caffè, beh insomma ecco come la soia in una giornata sostanzialmente supera i massimi del 2021, che era già considerato un livello importante, quel testa a spalla che poi aveva portato a un deprezzamento, ha contribuito al deprezzamento fino ai 1200-1200, adesso 1744, non avevamo così in alto da settembre 2012. Siamo peraltro al... Scusami, il prezzo esorbitante dei fertilizzanti e chiaramente dei trasporti, lo shifting, i porti, abbiamo visto il World Container Index, una serie di dati che hanno contribuito all'impegnata alla crescita delle materie prime, anche di quelle agricole. E allora questa è la situazione, io stavo aggiungendo che insomma data la particolare situazione che stiamo vivendo, insomma minuto per minuto, eccezionalmente insomma siamo anche su Facebook, in questo momento la diretta su Facebook, dall'inizio del blocco di questo blocco che ci ha visto protagonisti con Giuseppe Lauria e su YouTube per fotografare insomma l'andamento è piuttosto quasi irreale insomma delle materie prime, il petrolio guadagna il 6%, il gas abbiamo detto, ce l'ha ricordato appunto anche Giuseppe ha superato i 100 euro per megawattora, anche quello americano sta per superare, sta per raggiungere quota 5%, mentre sull'azionario Francoforte cede il 3,46%, è l'indice più pesante in questo istante. Giuseppe grazie come sempre per il tuo prezioso contributo, alla prossima e buon lavoro. A giovedì prossimo, grazie.